Il brano di Giovanni XXI sottolinea e presenta Gesù che grida dalla riva del lago di Tiberiade e grida come un povero perché chiede qualcosa da mangiare. Figlioli avete qualcosa da mangiare? E dalla barca i discepoli rispondono che non hanno niente da mangiare. Allora in questo convegno dedicato al grido del povero questo brano sottolinea che Gesù si identifica col grido del povero e questo povero che è Gesù, Gesù risorto, è colui che raduna la comunità cristiana dispersa, scoraggiata dopo il momento della croce e la rilancia nuovamente nel mondo la invita a gettare le reti, la raduna nuovamente intorno all'Eucarestia il pane e il pesce che ha preparato sulla riva del lago e la vi spinge a seguire nuovamente Gesù sulle strade del mondo. Allora Gesù risorto è un povero che grida figlioli avete qualcosa da mangiare? Questo fa sì che la comunità cristiana si metta a servizio del grido dei poveri perché in ogni povero che grida vede il risorto che la provoca, la interpella, la chiama la sequela.